Sono numerosi i danni provocati dall'ondata di maltempo abbattutasi sulla provincia di Salerno nelle ultime 24 ore. Visto il perdurare della perturbazione, la protezione civile ha deciso di prorogare e di innalzare di livello da gialla ad arancione l'allerta meteo fino alle 6 di lunedì. Più di 100 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco sul territorio. Situazione critica all'Aviano, dove una frana ha isolato alcune frazioni. A Nocera Superiore sgomberate 18 famiglie in via Cupa Belvedere, zona pedemontana interessata da uno smottamento. Danni e disagi anche per l'agricoltura, con l'interruzione di molte strade rurali nel Cilento e nell'area del calore. Diverti alberi secolari nell'agro nocerino sarnese, dove si registrano anche diversi impianti serricoli scoperchiati dal forte vento, in particolare a Sarno e San Marzano sul Sarno. Danni si registrano anche al campo sportivo di Teggiano. Caduti tre grossi alberi a Baronissi, dove ieri è stato necessario chiudere al traffico via Aldomoro. Situazione difficile anche a Salerno, colpita da una tromba d'aria nella giornata di ieri. A fare il punto della situazione il sindaco Vincenzo Napoli. È stato un evento calamitoso, evidente. Venti di potenza impensabili si sono abbattuti sulla parte orientale della città. Il tornado, se così possiamo la tromba d'aria, è arrivato fino alle colline di Giovi, addirittura. Generalmente questo è un dato difficilmente verificabile. I venti sono stati di una tale intensità da sradicare pali di cemento dell'Enel con tanto di fondazioni in cemento armato. Quindi sono stati dei venti di portata inimmaginabili. Una casa è stata svendrata. Abbiamo attivato i servizi sociali per dare ospitalità agli abitanti, un'ospitalità accettabile nelle more delle riparazioni immediate dei locali. Bisogna verificare quando si rinunirà di nuovo il COC, perché noi stiamo facendo un censimento dei danni subiti per fare poi eventualmente un'ipotesi di calamità naturale, stato d'emergenza, che proporremo alla regione Campania e di tanto si sta occupando anche il nostro deputato Piero De Luca che sta interpellando il governo.